Benvenuti, ben ritrovati, una nuova puntata di Respubblica, scoppiettante sono sicuro perché quando ho questo ospite in studio, di solito, a parte gli argomenti che trattiamo, c'è sempre qualche motivo per sorridere e buonariamente. L'ospite in studio è l'onorevole Nicola Catania, deputato regionale di Fratelli d'Italia. Onorevole, ciao come stai, ben ritrovato? Bene, bene, ben ritrovato. È un po' che non stavamo assieme qua. Diversi mesi, insomma. Dobbiamo recuperare, dobbiamo recuperare. Sarà perché ci chiamiamo alla stessa maniera, Nicola, però noto che abbiamo un problema similare, non siamo abbronzati. Però ho visto qualche foto al mare. Le foto al mare sono state proprio motivo di scherno, anche perché chi mi conosce sa perfettamente che da una ventina d'anni frequento zone baldeare o attività di altro genere, perché nella mia città, come tutti sanno, ovviamente per vent'anni abbiamo portato avanti una programmazione piuttosto importante. Facendo tutto in house, ovviamente eravamo lì sul campo, anche sulle cose più spicce, per cui il mare proprio l'abbiamo dimenticato. Quest'anno, al primo e unico bagno, ci siamo un attimino fermati con qualche foto così scherzosamente, proprio per sarmatizzare un po' il momento e per dire che finalmente quell'acqua, di quell'acqua che mi raccontavano c'era veramente, ho fatto questo posto e quindi è successo un po' di scherzi, ma tutto qua. Senti, ne approfitto. Siamo abbronzati perché anche quest'anno sostanzialmente ho preferito fare un po' di attività in giro per tutto il collegio, per manifestazioni d'altro, per sentire anche gli amici, cittadini e quant'altro, per cui con buona pace. Mi è bastato quel bagno. Lavori, lavori sempre. E quello è, così la vivo, così l'ho sempre vissuta, non mi è cambiato nulla, perché il rapporto con la gente secondo me è fondamentale. Ascoltare, registrare un po' umori, necessità ed altro ti rendono sicuramente più consapevole di quella che poi deve essere un'azione legislativa questa volta, non tanto amministrativa, per poter dare anche risposte al territorio. Giusto, io ne approfitto, vado di associazione di te, non abbiamo scherzato sull'acqua, divento serio invece, ma rimanendo sempre nel tema di acqua. Non ti ho visto sabato scorso al Consiglio Comunale Sorordinario a Trapani per i ristori, e questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso. No, mi dispiace tanto, avrei voluto esserci perché ci tenevo un attimino a portare anche un po' la mia opinione sulla questione che abbiamo seguito in assemblea già dalla finanziaria scorsa. Il problema è diverso, il problema è che mi è arrivato questo invito, non mi hanno magari chiamato preventivamente per capire se potevano coincidere alcuni appuntamenti dell'agenda, avevo già impegni assunti in maniera determinata e improgastinabili e mi è veramente dispiaciuto, ma da lì ho dato anche qualche spiegazione a qualcuno perché non ero lì presente, dicevo, ma tanto è un fatto prettamente trapanese, no, io sono un deputato del Collegio di Trapani e le cose trapanese mi interessano tanto quanto quelle di Partanno, del Belice o di altre cose. Sulla questione però credo che si sia fatto bene a fare una discussione di carattere generale, spero che non sia stato convocato un consiglio per cercare di mettere male avanti rispetto a questioni che potrebbero, ahimè, capitare da qui in avanti con le piogge, ma il ragionamento poi alla fine è uno solo. Il governo è stato molto sensibile a questa cosa, ha subito stanziato 5 milioni di euro, non bastevoli, bene, ma già c'è uno stanziamento che dovremmo rimpinguare già con la prossima finanziaria e mi pare di capire, anzi ne sono sicuramente certo di quello che dico, che la deputazione trapanese a prescindere dallo schieramento, opposizione, maggioranza, su questa situazione ha trovato la massima convergenza. La Ciminisi per un verso perché maggiormente magari è interessata, colpita anche perché la sua città mi si dice, mi pare che è stata, non mi pare, è stata danneggiata parecchio, è stata fino allo stesso, io ovviamente sono in maggioranza, ho appoggiato sicuramente questa questione, tant'è che poi il governo non solo si è espresso a mezzo di soldi, ma in finanziaria abbiamo votato, poi il voto è diversa, magari non si spiega perché poi alla fine qualcuno, perché opposizione vota contro al voto della finanziaria, ma è un fatto prettamente politico, l'interesse è stato trasversale di tutti, un risultato c'è e abbiamo un ulteriore impegno da parte del governo a proseguire questa attività anche con la prossima finanziaria. Aggiungo che non più tardi della settimana scorsa abbiamo approvato un emendamento che il governo ha presentato in un disegno di legge in aula, che serviva ad aggiustare tecnicamente una carenza della delibera di giunta che non era ben chiara rispetto alle questioni che interessavano la provincia di Trapani. Il governo ha presentato l'emendamento, l'assessore Falcone e ovviamente l'abbiamo approvato perché così si riequilibra giuridicamente, se non lo spiego per brevità, tutta la questione. Da un'assenza all'altra non ti ho visto nemmeno a Birgi, il milionesimo passeggero, c'era l'assessore Arrico O. Siamo rimasti con il Presidente Ombra che io sarei andato in un momento diverso, anche perché la scommessa era di superare un milione, quindi io un milione non ci sono andato, dopo un milione... Ormai sono superato. Sto scherzando, avevo un paio di appuntamenti importanti a Roma, fra l'altro abbiamo fatto una bella chiacchiata con il Presidente della Russa su questioni di carattere politico generale e che riguarda ovviamente anche la Sicilia, un paio di ministeri per cose importanti e lì quando hai gli appuntamenti o vai o rischi di saltare la data e andare molto oltre alcune scadenze. Senti, mi rendo conto. Senti, con la Russa avete parlato di provincia? Abbiamo parlato di politica in generale, abbiamo parlato di Sicilia, abbiamo parlato della situazione che si sta benificando in Sicilia, abbiamo parlato di questo modus operandi di alcuni partiti della coalizione di maggioranza che creano condizioni di acquisti di consiglieri. No, ma in generale c'è un movimento che altro non fa secondo me che dà fastidio proprio alla coalizione. Chi parla di essere inclusivo, chi parla di non essere inclusivo, chi parla che è attrattore, chi parla di altre cose, la verità è una sola. Dovremmo stare un po' tutti quanti tranquilli, cercare di guardare bene a quella che è la prospettiva, all'orizzonte, quelle cose che vogliamo raggiungere come governo regionale, come assemblea regionale e poi questa campagna acquisti è una campagna acquisti che non porta per quanto mi riguarda a nulla. Anche perché dovessimo azionare qualcosa che stride un po' con le logiche di maggioranza. Dovessimo azionare le leve di potere che oggi ha Fratelli d'Italia rispetto a quello che potrebbe anche offrire, capirete bene che sarebbe proprio, come dire, un caricato. Certo c'è questa frizione. Bisogna invece stare seri, bisogna invece stare alle cose, guardare più alle cose da fare e non alle questioni che attengono un po' a questa dinamica del teatro di nuove della politica. Le frizioni c'erano pure prima, negli anni passati, anche durante la campagna elettorale, adesso però mi sembra che siano ritornati un po' più forti le contrapposizioni tra la Lega e Fratelli d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la Premier, Meloni, il governo nazionale. No, ma su quello c'è sempre stato comunque un confronto. Non è che è un tentativo di smarcarsi un po'. Non credo proprio, c'è sempre stato un tentativo di, come dire, di creare un percorso diverso, ma la cosa importante è che la Premier, proprio perché su questa questione è abbastanza attrezzata, alla fine riesce a far sintesi. È una coalizione proprio per quello, perché non tutti hanno la stessa idea su una questione, ma alla fine bisogna fare sintesi perché la coalizione si mantiene con l'idea degli altri, c'è questo pluralismo all'interno della politica nazionale e quindi di conseguenza anche di quella regionale, che però deve riuscire a far sintesi e dare risposte ai cittadini sulle cose, tra l'altro, essenziali e fondamentali e nell'immediatezza per giunta. Certo, sugli sbacchi dei migranti non sta funzionando questa politica, né nazionale ma nemmeno regionale. Secondo me la Meloni ha fatto un ragionamento di prospettiva. Il semplice blocco navale, così come è decantato da subito, non avrebbe sortito nessun effetto se non, anticipato da questa politica internazionale che lei ha messo in atto, la presenza fra l'altro della front line a Lampedusa, radice lunga, c'è oggi una presa di coscienza, una consapevolezza diversa da parte dell'Europa, che non può lavarsi nelle mani così, sì che è semplicita, per poi, secondo me, attuare quella politica proprio di blocco nella misura in cui gli accordi stretti con i paesi africani, ovviamente sono accordi che poi si concretizzano nella vera essenza. Secondo me il lavoro lo ha posto in questi termini ed è più lungo, ma arriverà sicuramente a qualcosa di definitivo e determinato. A proposito di lavoro, che sta facendo il Presidente Schifani? Il Presidente della Regione. Sicuro? Lo sta facendo, sta tenendo ovviamente… Sta facendo un po' troppo politica, alcuni dicono, non è la mia opinione, ma alcuni dicono, del relato a refero, no? No, coniuga come giusto che sia, l'uno e l'altro. Ovviamente il Presidente Schifani è il garante della coalizione, è il garante del programma elettorale, è il garante degli impegni assunti, è il garante di perseguire quella linea politica che la maggioranza ovviamente ha dato sicuramente. Certo, un po' di politica ci sta e mi pare anche normale, ma è pur vero che da garante dovrebbe da adesso in poi cominciare a registrare ancora meglio gli equilibri in zero la maggioranza per poterci dare l'opportunità di esprimere in maniera chiara, direttiva e ben precise. E qui qualcosa sicuramente va aggiustato. Per esempio? Va aggiustato i rapporti con la coalizione, va stemperato un po' il clima anche rispetto alle cose detto prima, queste campagne acquisti, queste cose. Va portato l'asse della politica sul fare piuttosto che sul creare contenitori, prospettive ed altro. E lì secondo me qualche registrata bisogna darla. Una regione di maggioranza recentemente con i coordinatori del partito mi pare che abbia già dato una scaletta ben precisa di attività anche parlamentari da portare avanti. Ecco, dovremmo insistere ad allungare questa scaletta o comunque a registrarla meglio, ad insistere in maniera celere su alcuni disegni di legge che oggi devono trovare sicuramente luce in tal senso e quindi fare un'azione che sia un'azione governativa a tutti gli effetti. La politica, la maggioranza, è concentrata soprattutto sui sottogoverni. Per i liberi consorsi avete proceduto, ora c'è il nodo fondamentale, cruciale, quello delle nomine nelle ASP, poi ci sono i contesti bonifica, gli ACP, insomma. Stiamo parlando di mettere assieme province... Una sorta di redderazione. Sì, però mettere assieme province con gli ACP e ASP, ecco, quella è sicuramente qualcosa che deve farci riflettere. Con le ASP stiamo parlando dell'organizzazione del servizio sanitario provinciale e non, stiamo parlando della salute dei cittadini, stiamo parlando di persone che debbono avere obbligatoriamente titolo, merito per poter gestire una sanità che oggi, soprattutto in Sicilia, ma io dico in maggior regione, in provincia di Trapani, ha bisogno decarente, ha bisogno veramente di attività maneggeriali di un certo tipo. Quindi questa campagna acquisto, comunque questa ripartizione, queste cose di cui siete parlati, noi siamo per dare merito ai migliori in assoluto, per far gestire ai migliori la cosa pubblica in maniera trasparente, in maniera coerente e bisogna guardare semplicemente al merito e alle persone che oggi possono dare risposte concrete al territorio. La spartizione sicchietta semplicita non porta assolutamente a nulla, noi non ci stiamo. Ma è la nuova commissaria sordinaria del Bello Consorzio, però insomma dovrebbe essere vicina a Fratelli d'Italia, Dipartimento del Turismo? No, 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 ragionamento è diverso. Vedi, mettere le etichette già ai dirigenti della regione è qualcosa che non funziona, perché siamo abituati, o meglio, siete abituati a mettere un'etichetta per forza a qualcuno. Qui la scelta è una scelta completamente diversa. Il governo, la Giunta ha deciso di nominare commissari nelle province, nelle more e tutto quello che dovrà succedere, i direttori regionali dei dipartimenti. I dipartimenti quelli sono e i direttori sono anche quelli, quindi li hanno distribuiti rispetto anche a logiche anche di competenza e quindi non è che c'è quello che appartiene a me, quello che appartiene a te e quant'altro. Sono direttori regionali, sono capi di dipartimento e che oggi è il meglio che la burocrazia regionale possa esprimere. Quindi la scelta è stata una scelta coraggiosa, fuori dalle logiche di ripartizione o di spartizione, ma che possono dare risposte concrete in termini amministrativi già al territorio. Si vota o no per le province? Questa è la domanda del giorno, anzi delle settimane, perché tutti mi rilassano questa domanda. Ma guarda, c'è un impegno, da quello che mi risulta assunto col governo nazionale, c'è un impegno di coalizione per andare avanti con le elezioni di primo grado e il lavoro, fra l'altro in commissione, è un lavoro che abbiamo già portato a termine in prima commissione, abbiamo chiuso sostanzialmente il DL pronto per andare in commissione bilancio e lì è la prova del 9 e per poi andare a proseguire in aula. Ovviamente le questioni qui sono di carattere diverso, c'è sicuramente da capire bene quando andare a votare, se si può votare, se farla una elezione di questo genere assieme alle europee, se farla successivamente, ma sono aspetti di carattere tecnico-politico. Da Roma però lascia intendere che non ci sono le finanze per la qualità. Da Roma però giustamente, la Meloni, che non è l'ultima arrivata, si è espressa in che termini? Oggi noi affronteremo sicuramente a livello nazionale una finanziaria che come si dice sempre è fatta di lacrime e sangue. Ora, andare ad affrontare una finanziaria fatta di lacrime e sangue per essere così brutali e diretti e parallelamente ricreare condizioni con le province che portano ovviamente a maggiori spese, le due cose strisano. Per cui secondo me la questione è quella proprio di spostare più avanti il ragionamento. Non c'è dubbio comunque che una gestione politica e amministrativa delle province per quanto ci riguarda è fondamentale più in Sicilia che in altri luoghi. Perché in altri luoghi, come sapete benissimo, funzionano con la del Rio, c'è quindi una governanza politica e amministrativa che funziona. Qui ricorderete tutti come sono state annullate le province in diretta televisiva dal buon Rosario Crocetta e il disastro che abbiamo sotto gli occhi. Scuole, strade, provinciali, non c'è una competenza. Un sindaco che vuole anche intervenire rispetto a un problema in una scuola superiore non lo può fare perché altrimenti è fondamentale reale. La provincia è gestita ovviamente con il minimo necessario, quindi le strade è la stessa cosa. Quindi qui abbiamo un'esigenza particolare e proprio da qui dovremmo ripartire per cercare di ricreare una condizione di governanza che sia la più adeguata possibile al territorio. Emergenza boschi ed emergenza settori produttivi legati all'agricoltura. Sulla seconda, noi abbiamo fatto un ragionamento più complessivo e che guarda più avanti. Le giornate scorse, come sapete, è venuto qui da noi il sottosegretario Patrizio La Pietra all'agricoltura, con delega proprio all'agricoltura, proprio a delega specifica perché il ministro, che è sensibile alla nostra richiesta, ha incaricato il sottosegretario di venire a creare una condizione soltanto per quantomeno registrare le esigenze concretamente del territorio. L'abbiamo fatto con gli agricoltori, l'abbiamo fatto con la pesca. C'è in corso un ragionamento. Io nella giornata romana ho rincontrato Patrizio per capire a che punto eravamo e mi pare di capire che c'è una grande disponibilità del governo a soccorrere gli agricoltori che in questo momento vivono una crisi profonda. Ma non tanto per dirlo, perché a mia memoria tutto quello che è successo quest'anno, per un'ospera alla calura alla mancanza, alla impossibilità di irrigare per le righe, le dighe, tutte quelle cose che già avevamo superato, oggi tutte queste cose messe in coda hanno creato una crisi profondissima per cui l'esigenza è quella di correre subito con degli aiuti, ma gli aiuti possono arrivare esclusivamente quando poi il dato della raccolta verrà fuori, quindi già c'è la vendemia in corso, dobbiamo aspettare un po' di capire che tipo di danni ci sono stati, ma nel frattempo abbiamo chiesto al governo nazionale e l'abbiamo fatto anche al governo regionale cercare di trovare una dilazione di scadenze che sono poi quelle fisse, quelle che non vivono né calura né per un'ospera. Quando c'è da pagare la tassa che ti arriva e che scade o la paghi o vai in mora, quindi abbiamo chiesto anche quest'altro. Una cosa importante, su cui si è fatta una polemica stupida, il governo proprio per, nella prospettiva, parliamo di per un'ospera, ha messo un milione di euro che non è lo stanziamento che serve a pagare gli agricoltori rispetto ai danni da per un'ospera. Ha aperto tecnicamente un capitolo nel bilancio dello Stato dedicato per un'ospera che non c'era, non esisteva. Quindi intanto ha aperto il capitolo. Potrei anticipare una notizia che porto da Roma, mi ha detto ancora di Starcauto, ma già questo capitolo è aumentato di altri 6-7 milioni ed è una posta che serve tecnicamente, nel momento in cui c'è riconoscimento e quant'altro, ad inserire direttamente in quel capitolo le somme necessarie per il riconoscimento della calamità naturale. Quello è, la regione siciliana sicuramente farà il proprio dovere, già c'è un impegno in tal senso. Il governo ha fatto le delibere per richiedere lo stato di calamità e c'è tutto quanto. Questa cosa si aggrava successivamente con la calura di quei giorni di luglio che non ha provocato danni soltanto alla produzione, ma ha provocato danni direttamente alla struttura, agli impianti, alle piante. Quindi lì il danno è molto più grave ed è strutturale e stiamo ragionando su come operare in tal senso. Questa è un po' la sintesi delle cose che ci siamo detti. Emergenza incendi, non abbiamo parlato. Emergenza incendi. Ovviamente piangiamo una cattiva gestione del tempo, ma del tempo parlo, vado proprio in maniera diretta, indietro con la memoria. È chiaro che quello che succede è un gesto provocato da criminali, da delinquenti. Quello che è successo è, a mia memoria non era mai successo, è frutto proprio di una mente criminale che opera in tal senso di tutto il territorio. Io proprio ieri ho fatto un giro guardando dalla costa i danni provocati sul lato dello zingolo scendendo, sono danni proprio enormi, non solo qua, ovunque. C'è da ricreare, o meglio, c'è da creare qualcosa che vada a creare una sorta di verifica, di controllo e di attività di un pronto intervento che possa nel tempo evitare qualsivoglia danno di questo genere. C'è un impegno del Partito del Governo. L'assessore Pagale, fra l'altro, sarà con me in settimana a fare un giro proprio per valutare i danni fatti da questi incendi. 550 milioni il Governo è riuscito, un partito di Noas, farlo istanziare rispetto a nuove tecnologie, quindi a droni, a tutta una serie di attività di verifica e controllo. La cosa importante è che noi in Parlamento, in un DL, che è in discussione, abbiamo inserito un emendamento che serve a dare ai forestali un'attività più duratura, più lunga, parliamo di 150 milioni, e soprattutto spostare il tutto sull'attività antigenio. I mezzi sono compresi in quei 550 milioni. Ma per me si intende i ricotteri che possono buttare la canadere, che non siano così pochi e così gestiti. Ma i canadere non è che siano pochi, i canadere sono pochi nella misura in cui prende fuoco tutta l'intera isola. I canadere sono pochi nella misura in cui, nel momento in cui c'è l'incendio, non possono manco caricare perché c'è il vento, c'è il mare mosso e 550 milioni. Penso che siano proprio quelli da destinare. Andiamo alla chiusura. Ottobre o novembre? La data del... Dicembre. Ah, dicembre. Sei preoccupato? No. Di che cosa stiamo parlando? C'è che fa? Si parlano tra di loro. Bica, è arrivato secondo alle elezioni regionali, ha presentato ricorso perché appunto c'era secondo i suoi legali, secondo lui, un'anomalia nella elezione di Nicola Catania. Ne abbiamo parlato più volte nei giornali, sui giornali. Lui era presidente dell'ASRR, quindi questo non doveva inficiare l'elezione. Nicola Catania invece è stato eletto. L'Ars ha votato su proposta di Catania e non solo... No! Di altri, di altri, di altri, su proposta di altri ci tiene, giustamente. Di altri ha votato un emendamento che dà, diciamo così, l'interpretazione autentica della norma che regola appunto le SRR, ma nel frattempo il primo grado è stato vinto da Bica. Catania ha fatto ricorso, a dicembre abbiamo il secondo round. L'appello. L'appello. Alcuni dicono che beh, con questo emendamento approvato in Assemblea regionale, Nicola Catania può dormire sogni tranquilli. Ma io glielo chiedo, stai dormendo sogni tranquilli? Ma guarda, io dormo sogni tranquilli, ma non da ora, da sempre, sotto questo punto di vista. Vorrei ricordare, lo ricordo ancora perché questa cosa altrimenti sembra che sia una cosa che colpisce me, che in Assemblea, nelle mie condizioni, ci sono almeno altre dieci persone. Nessuno dei primi dei non eletti di questo, di quest'altro ha fatto ricorso. Ha fatto strano quello che abbia fatto Bica, ha colpito un po' tutti quanti, anche il partito, obiettivamente, proprio gli scontri romani di un certo tipo. Il problema è che non c'è rilegibilità. Ma l'ordinanza dice una cosa diversa. Sì, l'ordinanza dice una cosa diversa. Intanto partiamo su due principi. Che non essendo stata ancora fatta la verifica poteri in Assemblea, una cosa che io ritengo è errata. Il ricorrente non va al TAR, ma va al Tribunale Civile. Ed è un Tribunale Civile. A mio giudizio, ma è un mio modesto giudizio, un ricorso del genere al TAR, ma manco veniva accolto, manco lo ricevano. Ma perché c'è una questione che veramente stride. Sotto questo punto di vista io mi sentivo sereno e mi sento sereno ancora di più adesso. Poi, da un punto di vista politico, se mi dite che quell'azione è un'azione che è legittima chissà che cosa, lascio ai telespettatori la risposta. Stiamo parlando del doppio dei voti, più del doppio addirittura. E lo stesso mica sa, perché ha fatto il Sindaco, che non c'è ineleggibilità rispetto a quella carica. Tant'è che io l'ho dichiarata così come gli altri. Già nel momento del mio insediamento, Sindaco, Presidente dell'SRR, tutto. Semmai, semmai, ci potrebbe essere un problema di incompatibilità. Ma che è stata sollevata puntualmente, senza se e senza ma. C'è fatto. Grazie Onorevole Nicola Catania, deputato regionale, eletto appunto, sottolineato appena dallo stesso, con un bel po' di migliaia di voti nella lista dei Fratelli d'Italia. Ci rivediamo presto. Senz'altro. Adesso andiamo con la seconda parte di Respubblica, Sicilia chiama Europa. Parliamo di diverse altre questioni che riguardano il territorio della città di Trapani e non solo, perdonatemi la sottolineatura, con la dottoressa Rosalia Dali, attuale assessore alle politiche turistiche e d'altro. Facciamo così perché sono diverse le delle che. Come stai Rosalia? Ciao, ben ritrovata. Ciao, direttore. Sto bene. È un'estate intensa, subito post-elettorale, però siamo soddisfatti. Sicuramente è un'estate turisticamente ricca, ha tante presenze, è ancora continua, complice il bel tempo, ma anche le grandi attività di promozione che abbiamo fatto, il fatto che la Sicilia comunque tira tanto come turismo e ci prepariamo comunque a non mollare la presa, ma anzi a proseguire il nostro lavoro, perché il nostro obiettivo, come ti avevo detto in puntata precedente, è quello di allungare la stagione, non di sfruttarla in due o tre mesi l'anno, perché per me poi il territorio ha anche una capacità ridotta, anche per un discorso di impatto ambientale, di sostenibilità, di uno sfruttamento delle risorse, quindi secondo me dovremmo imparare ad essere così bravi ad allungare la stagione turistica, a farla partire prima, a farla terminare dopo, anche perché è un territorio che si presta, non è un territorio stazionale. Ma è difficile, è facile, è fattibile? È fattibile, assolutamente sì. È una tendenza che sta caratterizzando territori con molte meno opportunità e offerte esperienziali rispetto al nostro. È soltanto una questione di comprenderne il valore, che è un valore, ripeto, intanto economico, perché significa lavorare di più, ha un valore anche etico di evitare di sfruttare le nostre risorse ambientali e naturalistiche, però dobbiamo comprenderlo non solo noi istituzioni, ma anche e soprattutto gli operatori. Gli operatori dobbiamo insieme, molti già lo fanno, ma sicuramente dobbiamo tutti migliorare. Nel pensare che la stagione possa allungarsi, che bisogna adeguare i servizi anche ad un turista che è diverso, cioè il turista che ti viene a luglio-agosto è un turista che ha esigenze diverse rispetto a quello che ti viene a ottobre, che magari cerca l'esperienza outdoor, le passeggiate, il trekking, anche la bicicletta, l'escursionismo in genere, che potrebbe da noi trattarsi tranquillamente fino a dicembre. La stessa cosa potrebbe iniziare a venire prima, ma significa adeguare i servizi, adeguare i percorsi, fare anche delle valutazioni differenti. Su questa direzione noi stiamo lavorando, come distretto turistico, come comune di Trapani, in accordo anche con la regione, perché quello dell'outdoor è anche una campagna dell'allungamento della stagione, è una campagna che sta portando avanti anche l'attuale governo regionale, già quello precedente, che è tuttora questo, tant'è che si sono aperti a delle fiere di settore, sul cicloturismo, sul camper, la regione partecipa anche a queste fiere, propone il prodotto Sicilia. E qui, mi ripeto, è tutto un lavoro di strategia. Insomma, la direzione è questa. Io non sono per il turista di massa, per le folle, io sono per il nostro territorio si pesta anche ad un turismo più lento, un turismo più... Condivido, noi però diciamo in un certo senso, soprattutto dalle statistiche così si evince, diciamo, beneficiamo del turismo di massa, anche low cost, grazie, in questo caso va detto seriamente, al Ryanair che insomma contribuisce a far arrivare le persone. Abbiamo toccato un milione di passeggeri, andiamo verso un milione e tre quest'anno all'aeroporto Vincenzo Florio, come la commenti questa situazione? Io commento come un risultato straordinario, aver raggiunto già a settembre un milione di passeggeri, questi sono da Birgi, poi sono anche quelli che arrivano da Palermo, quelli che arrivano con le navi, quindi i numeri sono davvero importanti, importantissimi e Ryanair è una grande opportunità anche questa per il territorio. Però non sempre, il turista che vola Ryanair non è detto che sia per forza un turista di massa, può essere anche un turista che invece apprezza un aspetto più lento e meno commerciale del territorio e poi se noi garantiamo, secondo me, dei flussi, diventiamo destinazione anche nel periodo autunnale, nel periodo primaverile, sicuramente Ryanair invece di fare una stagione, una summer, una stagione piena, ricca di voli internazionali che termina a ottobre, magari anche la Ryanair potrebbe adattarsi a questo tipo di nuova richiesta che arriva. Quindi per questo ti dico che è un lavoro congiunto da fare istituzioni, privati, operatori, c'è proprio una scelta di strategia che dobbiamo fare. Secondo me è la direzione giusta. Naturalmente questo significa anche avere della senteristica attrezzata, ben curata, ma io ora sono reduce da un weekend in cui sono arrivati dei giornalisti proprio di questo settore e li abbiamo portati un po' alla zona della riserva dello Zingaro, ma davvero sono rimasti incantati. Lì, nonostante gli incendi, ahimè, però possono scegliere diversi sentieri, diversi livelli di difficoltà, sono belli, hanno questi panorami meravigliosi a stradombo sul mare, la stessa cosa hanno fatto la zona ciclabile da Trapani fino a Marsala. Quello che noi forse siamo abituati, che è il tramonto, che è il paesaggio delle saline, credimi, per loro è assolutamente una cosa fuori dal comune. E allora sfruttiamo questa opportunità. Questo tra l'altro è un turista che non sporca, è un turista sostenibile. Abbiamo adesso la piazzetta del tramonto con, diciamo così, la passerella, no, le pedane. Le pedane. Vabbè, ma è un primo... Sì, sì, sì. È un primo... Non sarà così, definitivamente, dovrebbe diventare molto bella appunto da vedersi. No, ma non dimentichiamo che intanto è stato abbattuto finalmente, dopo anni in cui ci lavoravamo, questo caseggiato. Per iniziare abbiamo messo queste pedane, ma intanto abbiamo restituito uno spazio, anche uno spazio visuale ai trapanesi e nonno. Trapani, città che legge, è un altro degli asset sui quali con la tua presenza appunto in giunta, con il tuo lavoro, abbiamo negli anni passati, immagino ancora ci puntiamo, puntato, no? A che punto siamo? Scusate, ripetersi... No, no, questo è un progetto a cui io tengo moltissimo, quello della promozione della lettura, che ho fatto insieme alla sovrintendenza di Trapani e soprattutto al CEPEL, che è il centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, con cui ho un contatto diretto e siamo sempre in... Tant'è che il CEPEL ha scelto di fare a Trapani gli stati generali della lettura, dedicando una rivista, un numero monografico a Trapani, proprio sulla città, sui spazi dedicati alla lettura, le biblioteche, le librerie, ma anche i scrittori del Trapani intendo provincia comunque. E devo dire che anche su questa direzione noi ci crediamo, crediamo molto nella valorizzazione anche, ripeto, degli spazi, quindi in primo luogo alla biblioteca fardelliana, perché avere il titolo di città di legge, che legge non è soltanto, come dire, una spelletta che ti metti al... o un logo da aggiungere. Per me è una... è un percorso di coinvolgimento, di ascolto e di crescita. Quindi la biblioteca, come sai, ha avuto dei lavori importanti, poi ha avuto nuovamente questo problema. A giorni chiudere, finiranno i lavori di pulitura dovuto all'impianto antincendio, insomma, che come sai è scoppiato e quindi è cato dai danni e non l'abbiamo avuto a più aprire. Sta terminando, ma contemporaneamente stiamo portando avanti il progetto finanziato dal PNRR, che è un progetto per l'abbattimento delle barriere cognitive all'interno di biblioteca fardelliana. Quindi significa far fruire il patrimonio anche da chi ha dei problemi uditivi, sensoriali, visivi, attraverso sia una piattaforma esterna, ma noi ci siamo anche immaginati, abbiamo anche studiato nel progetto, un percorso immersivo nel quale tu, passeggiando o comunque attraversando la biblioteca fardelliana e le varie sale, ti viene raccontata la storia del luogo, dei mecenati che hanno creato questo spazio e delle importantissime raccolte che ci sono. Noi abbiamo delle raccolte che forse i trapanesi neanche sanno perché sono nascoste, nascoste per motivi di sicurezza nei cavo delle banche. Allora molti di questi libri li stiamo facendo scansire, diventeranno un libro dei libri digitali che è possibile visionare e sfogliare digitalmente. Poi sempre per il titolo Città che Legge abbiamo avuto il massimo del finanziamento per l'acquisto anche quest'anno di nuovi libri per arricchire sempre la nostra raccolta che è fatta di donazioni ma anche di acquisti periodici. Abbiamo vinto nuovamente il finanziamento per l'acquisto dei libri, abbiamo creato le rassegne, abbiamo tanti nuovi progetti sulla lettura sia con i bambini che con gli adulti per quest'autunno-inverno e poi abbiamo anche, stiamo portando avanti la, perché ripeto, la città che legge, perché questa è stata la domanda, la lettura è importante agli spazi perché la biblioteca non può essere un luogo soltanto di prestito, consultazione, deve diventare un centro accogliente dove poter conoscere entrare in un mondo meraviglioso che è il mondo anche non solo contemporaneo ma anche della nostra storia, però anche contemporaneo. Allora San Domenico, come sai, ci sono i lavori nel secondo chiostro e anche al primo piano, lì si sarà un centro di urno dove noi faremo dei laboratori anche di lettura, la biblioteca per i bambini, la biblioteca per i giovani, quindi l'idea anche di separare il momento storico della conservazione, della scoperta nel Palazzo San Giacomo e invece a San Domenico fare uno spazio policulturale più giovane, più anche vicino alle esigenze ludiche. Un'osservazione che ti prego di prendere come suggerimento e non come contestazione, come critica se non costruttiva, è più un'osservazione. Tutto bello, certamente, puntiamo sulla lettura, mancano però le librerie diffuse, diciamo così, c'è le panchine librerie, le librerie dove si fa il cross, lo book sharing. È una città che, puntando appunto al capitale del libro, insomma, la città che legge, dovrebbe in qualche maniera incentivare. Sì, no, ma sono pronte. Noi avevamo iniziato con la biblioteca fardelliana, avevamo dato noi un contributo come comune per l'acquisto di queste casette, per il book sharing, quindi delle casette da distribuire che sono nei giardini delle scuole, certo in luoghi protetti per certi versi, alla ville comunali. Sono già pronte, le dobbiamo solo installare perché per le ville occorreva un certo permesso anche della sovrintendenza che è arrivato proprio il mese scorso e sono già pronte queste casette dove è possibile lasciare un libro o prendere un libro in prestito e riportarlo. Ma aggiungo che noi quando abbiamo fatto il dossier di capitale del libro, perché noi comunque partecipiamo a questi bandi, a volte li vinciamo, a volte no, però perché sono importanti anche questo bando di capitale del libro? Perché ti consente di disegnare e di scrivere un dossier che diventa già una traccia scritta di una visione e noi per scriverlo in questo caso abbiamo avuto il grandissimo contributo della professoressa Antonella Agnoli, che chi la conosce sa che parliamo di una delle maggiori esperte nazionali di biblioteche. Lei come direttore scientifico ci ha aiutato a immaginare questo spazio e tra questi tra l'altro abbiamo inserito noi anche l'autobus, l'autobus biblioteca. Bookbus, il bookbus, chiamiamolo così. Bibliobus, ecco, bibliobus, che gira nei quartieri ma anche in alcune zone, abbiamo fatto una convenzione ricordo anche con gli ospedali, con le carceri, per fare in modo che questo... E quando lo facciamo partire il suo servizio? Ma se ce lo finanziano? Ci vogliono 80.000 euro. 80.000 euro, obiettivamente, insomma, non sono brusco... No, perché sai, c'è l'acquisto del bibliobus... Ma sarebbe uno dei bus di ATM? No, no, questo è proprio un bibliobus, poi certo ci vuole l'autista... Quindi non è solo 80.000 per comprarlo e farlo diventare funzionale, poi poi ci vuole l'autista e i meccanici... Assolutamente, sì, la manutenzione... Però si può fare, cioè, dicono, se noi riusciamo a averlo finanziato come ci stiamo provando, partecipando a questa gara del CEPEL, poi alla fine lo troviamo il modo di portarlo in giro, non diventa più questo il problema. Però, ecco, questo però te lo voglio dire perché, ripeto, per me, Città che Legge, ripeto, non è un titolo, ma è un percorso che stiamo facendo di sviluppo, perché realmente vogliamo portare... Già lo stiamo facendo, io ricordo che cinque anni fa non c'era neanche una rassegna letteraria a Trapani. Adesso ne sono magari troppe, a volte. Allora, io lì... Alcune non me ne vogliono gli amici, i colleghi, alcune sono pure quasi fotocopie, insomma, obiettivamente. Però ben vengano, ben vengano. Ben vengano, brava. Però devo dire che io ti parlo di quelle che curiamo... Guardate, per me vanno tutte bene, quelle che curiamo come comune, c'è Trapani in Contra, che è diventata veramente un brand, ma anche tutto quello che facciamo con Nati per Leggere, per i bambini, interessante. Abbiamo anche il Festival Madre Mediterraneo, che noi quest'anno rifaremo, probabilmente a novembre, perché siamo... Assessore, serve la festa del libro a Piazza Vittorio. Bisogna organizzare lì, dove c'è stato il primo Saturno, che non so, degli stand, un tappeto di libri per... Sì, 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 ma noi abbiamo fatto l'anno scorso una prova con Mediterraneo di libri a Costo San Domenico. E l'idea era quello poi di farlo piano piano crescere. E infatti non è escluso. Però prima di arrivare a Piazza Vittorio, che è davvero dispersivo per un... Non so quanta gente verrebbe ad un evento sul libro. Iniziamo magari da zone più contenute. Che è sempre le cose con cautela. Invece via, ci lanciamo e poi la gente viene. Abbiamo fame di partecipare a belle iniziative. Come per esempio quella del letto Luglio Musicale Trapanese. Anche lì è un settore di sua competenza. Luglio Musicale è una stagione bellissima, che non è finita. Sabato 23 avremo l'ultimo spettacolo all'interno del progetto Medi Teatress. E saremo al teatro antico di Segesta. Una stagione bellissima, con un cartellone non soltanto prestigioso, ma partecipato. Abbiamo avuto quasi sold out quasi tutte le sere. È ricco di opera, ma anche balletti, concerti. È stato davvero interessante. Luglio Musicale è una realtà importante per questo territorio. È il nostro teatro. Nonostante tanto girino voci di problematiche, anche un po' cavalcate dall'opposizione, io sostengo che è un ente invece che va tutelato. E noi come amministrazione, il sindaco in primis, la giunta e io, l'abbiamo finora sempre fatto in modo che potesse essere preservato. Avete accantonato l'idea della fondazione? Non l'abbiamo accantonata, però si devono creare delle condizioni di assoluto serenità. No, non l'abbiamo accantonata. Per ora dobbiamo rinforzare l'attuale situazione, stabilizzarla un po', ma comunque è anche in corso un studio con il notaio per fare la fondazione. Diciamo che qualsiasi cambiamento deve essere migliorativo. Cambiare è la formula, ma rimanere sempre con gli stessi problemi non ha senso, Nicola. Io sono al parere che un cambiamento o è migliorativo, risolutivo, oppure si rimane così. Certo, certo. Ormai sei anche, diciamo, gioco forza, ma mi sa che l'hai fatto dimostrando pure di saperci fare. I numeri non sono stati quelli auspicati, ma tutta figura non ne hai fatto, credo. Sei anche ormai una politica, no? Cioè, cinque anni da assessore tecnico all'inizio, e ora in campagna naturale ha creato una lista tutta, tra virgolette, a sue immagini e somiglianze, nel senso che lei si è proprio data a fare attuale le persone, contrattare, trattare, convincerli, e quindi ormai sei politica anche. È una bella... Ti fa ridere, mi fa piacere. Mi fa un po' specie perché la vita ho sempre fatto altro, però sì, non è un'offesa. Ma a me non sei più assessore tecnico, sei assessore proprio con ruolo politico. Ma devo dire che ho sorpreso pure me stessa, innanzitutto perché non pensavo di riuscire, lo dico con molta onestà, di riuscire a fare una lista tutta mia di 24 persone, e invece è stato il più grande successo per me, aver trovato e riunito 24 persone eccezionali, non politiche, non tutta primissima esperienza, nessuno che aveva... nessun big che aveva dietro già un'esperienza e quindi un consenso numerico riconosciuto. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tante idee, tuttora continuiamo a sentirci, a vederci, faremo breve una riunione e continuano ad essere un po' il mio suggeritore, nel senso che loro, visto che vengono tutti dal mondo della cultura, del turismo, dell'arte, ma non solo, mi danno tante idee e sono un po' da pungolo su tante iniziative, sono un po' una sorta di... Quindi Idealist diventa un movimento ufficiale o è morto già? No, 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 potrebbe diventare un movimento, diciamo che ci stiamo lavorando, perché considerando, ripeto, per me è già il successo di fare una lista di bellissime persone, tutte, ripeto, pure, mi piace questo termine, poi non aver raggiunto il quorum per poco, parliamo di 200 voti, insomma non è tantissimo, è stata una campagna elettorale difficile, c'erano tantissime liste, poi dico non ha raggiunto il quorum, pure liste blasonate, politiche, quindi dico mi sembra anzi davvero un ottimo successo per noi. E poi sì, il sindaco ha mantenuto questo l'impegno con me di fare l'assessore, io non ho minimamente modificato il mio approccio, che è un approccio, diciamo, per certi versi tecnico, politico, che dir si voglia, comunque è un approccio di assoluta dedizione, di assoluto senso di grande responsabilità nei confronti di questa città, per me è veramente un servizio, che faccio con grandissima umiltà, non è un punto d'arrivo, è solo un, anche sì, avere questo consenso mi responsabilizza, perché oggi noi abbiamo mille rotti persone che ci hanno votato, mi responsabilizza, ma ripeto, non ha cambiato completamente il mio approccio. Ora però ti metto un po' in difficoltà, ti tocca, ti tocca, sei ormai politica pure, ma è normale che sei l'unica donna in giunta? Guarda, con me non trovi terreno fertile su questo tema, io sono per le persone di competenza e di valore, non sono per un discorso di genere, posso capire questa cosa... Ma questo però significa che Andreana non era di giusta... Andreana era di grandissimo valore e competenza, però non entro nel metodo delle sue scelte, che forse ha fatto anche per motivi lavorativi, e ci sono sicuramente tante... Ecco, per me ci sono tantissime donne valide, però chiunque abbia un ruolo in giunta nel mondo del lavoro, questa è la mia filosofia, deve essere scelta per quello che vale, per quello che rappresenta, per quello che dimostra di essere, non perché ci deve essere la quota donna e la quota woman. Questo è il mio pensiero, lo so che è un po' impopolare. No, 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 no. Però è sempre stato... La meritocrazia... Io non voglio essere scelta perché donna, voglio essere scelta se sono consigliata a una persona valida, ma non solo nella politica, vale anche nel mondo del lavoro. Io condivido questo ragionamento, però non nascondiamoci di dire il dito, è una scelta politica, sono gli accordi preelettorali, quello che sta determinando la giunta di questa parte. Sì, però è pur vero che nessuna donna ha fatto una lista, allora dico, se lo dobbiamo mettere anche da questo punto di vista, io, con i miei colleghi, che sono attualmente in giunta, abbiamo preso la responsabilità di fare una lista con tutto quello che ha significato in termini di difficoltà. Io mi sono messo alla prova su una cosa che pensavo di non essere in grado, invece poi alla fine è andata bene. Allora dico, ma perché non c'erano altri... I giochi facili, come si fa a dire di no? Sì. Dico, perché altre donne non hanno fatto la stessa cosa? Adesso ci chiediamo perché non c'è una donna in giunta, ma dove erano le donne che facevano le liste o che... Dico, ma questo è un mio pensiero che è sulla tutto. Però, sì. Io sono in questo molto determinata. Ho sempre studiato, ho lavorato nella mia vita, mi sono fatto avanti e non ho mai messo il genere prima di tante altre cose. Senti, allora, continuo con la politica. Siete gli stessi assessori, tranne, mi pare, delle Barbara, che è l'unico nuovo. Virgì. Ah, no, è Virgì. Quindi che cosa ci aspettiamo? Essendo gli stessi di cinque anni fa, che ci aspettiamo da questa squadra assessoriale? Allora, intanto, prima di essere una squadra, mi sento dire che siamo un programma di governo ben chiaro, che abbiamo sposato. E quindi abbiamo voglia e desiderio di portare avanti quel programma di governo che è iniziato cinque anni fa, che sicuramente in qualche cosa è stato migliorato, cambiato, qualcosa che non ha funzionato, non sono per l'infallibilità. Però abbiamo già fatto tanto e vorremmo nei prossimi cinque anni assolutamente portare avanti questo progetto di governo del Sindaco e soprattutto io ho il desiderio di vedere realizzate queste opere su cui abbiamo investito in termini di tempo, di progettazione, di ricerca di finanziamenti e ora sono molti appaltati. Io mi riferisco al San Domenico, ne parlavamo prima, mi riferivo a questo progetto anche del PNRR, che è un progetto non di opera ma di servizio immateriale, ma bellissimo perché è un nuovo modo di fluire di un bene pubblico. Mi riferisco al Palazzo Lucatelli, che è il mio grande desiderio vedere in centro storico finalmente uno spazio, un auditorio, intanto un auditorio, un modo di poter organizzare anche in inverno concerti, spettacoli, eventi e soprattutto questo bellissimo palazzo e questa piazza che deve assolutamente rifiorire. Poi sicuramente vorrei portare avanti, perché il periodo della pandemia mi aveva interrotto, vorrei... Diciamoci lo chiamiamo, obiettivamente. No, vorrei portare avanti, no, perché è un processo di miglioramento estetico, qualitativo estetico del centro storico. Va bene, aspetteremo appunto questi risultati. Nel senso che è in atto un lavoro col regolamento, insomma vorremmo un lavoro sulla ZTL, sulla mobilità, perché non l'avete fatto prima, è chiaro, non l'abbiamo fatto prima, perché la pandemia ci ha messo nelle condizioni di dover creare nuovamente grandi spazi per dare più spazio agli esercenti, solo pubblico, farli riprendere anche dai periodi di crisi ed era legittimo. Oggi io, ma sono d'accordo col sindaco, sto mettendo mano un po' a questa completamente rivisitazione anche estetica, di fruizione. Non può essere un centro storico, non posso... Allora è giusto che ci siano le attività e che sia vissuto dalla gente. Deve essere, c'è anche l'emogeneità. Però c'è anche la possibilità che io posso guardare un prospetto e ammirarne la sua bellezza, posso avere il piacere di vedere un portale, un balcone, non può essere tutto nascosto. E quindi è giusto che si conviva in armonia, non che si facciano fuori, ma che si conviva in armonia con un maggiore senso estetico e gusto del bello e del, come dire, di una cosa che si cala bene nel contesto storico. La stessa cosa vale, mi auguro, per il verde pubblico, mi auguro, ripeto, per la raccolta differenziata che comunque funziona. Purtroppo c'è tanto problema ancora con qualche cittadino che invece continua a scaricare. No, ma a parte cittadini, se stessi, ne parlavo pure l'altro giorno con Barbara, obiettivamente bisogna trovare soldi per avviare lo spazzamento delle strade e la raccolta anche delle cartacce che ci sono. Sì, però se i cittadini invece di buttare la... Funziona la raccolta differenziata, ma poi abbiamo cartaccia anche mandata in giro. La cartaccia, però ogni tanto ci trovi anche uno stendino rotto, un passeggino, una valigia. A parte gli incivili o i non rispettosi, ma vanno pulite le strade. E poi va anche, secondo me, piano piano abituato, va disingolfato il centro storico dal traffico. Questa è una mia teoria. Ma di questo magari ne facciamo poi una puntata speciale. Tu sei delega al turismo e anche alle politiche del centro storico. Le politiche del centro storico, e dico, questo significa anche contemperare le esigenze di chi ci vive tutti i giorni, ci paga le tasse, giustamente ha bisogno anche di servizi che puestano arrivare con la macchina per scaricarla sotto casa, poter posseggiare. E al contempo anche chi ci lavora e ne fa attività. E soprattutto anche deve diventare il gioiello di famiglia più bello da far vedere a chi arriva. Senza trascurare le periferie o gli altri quartieri, ma io ho la delega alle politiche del centro storico, quindi parlo a parola di questo. Grazie, Assessore Rosalia D'Alici. Ci rivediamo. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie a te, grazie. Grazie a voi per averci seguito. Questa è stata ResPubblica Sicilia, chiama Europa. Una trasmissione con sorriso grazie alla presenza dell'Assessore Rosalia D'Alici. Alla prossima. Adios. Adios. Grazie a tutti.